Un saluto a tutti i videoascoltatori di Italia Medievale, oggi vi presentiamo un bel volume appena pubblicato dal mulino, dal titolo Andare per i luoghi della stregoneria di Marina Montessano, che abbiamo il grande piacere di avere nostra gradita ospite, alla quale io come mi abitudine lascio subito la parola perché ci parli di questi luoghi della stregoneria. Prego Marina, a te. Grazie, grazie per l'ospitalità, ritorno sempre volentieri qui fra voi e grazie a chi avrà piacere di ascoltarci. Dunque, Andare per i luoghi della stregoneria in Italia, questo agile libretto, ripercorre alcuni dei luoghi della stregoneria all'interno di una collana che è dedicata proprio a questo, a promuovere alcuni dei luoghi italiani legati ognuno dei libri a una determinata tematica. Ne sono usciti già molti. In che modo il mio si può inserire all'interno di questo filone? Diciamo che è stato necessario pensarlo un po' a monte, nel senso che quando si parla di luoghi della stregoneria fino a un certo punto si può parlare di luoghi fisici che hanno una realtà fisica. Una larga parte dei racconti di stregonerie hanno a che vedere con il mito, hanno a che vedere con una storia che in larga parte è immaginata più che è vissuta. Naturalmente, è chiaro, ci sono poi le evidenze generalmente drammatiche, i luoghi in cui le streghe sono state condannate, sono state bruciate, ma al di là di questo i luoghi che davvero significano qualcosa per la storia della stregoneria spesso sono difficili da inquadrare. Un esempio su tutti che arriva fra le prime pagine perché è certamente la testimonianza più nota, quella a cui spesso si pensa quando si parla di streghe in Italia. Mi riferisco naturalmente a Benevento e alla tradizione del noce di Benevento, ultraconosciuta, testimoniata a partire da un celebre processo che è uno dei primissimi processi italiani per stregoneria, quello contro una donna umbra, Matteuccia Dattodi, che viene celebrato e concluso nel 1428. Anche se noi abbiamo soltanto la sentenza di questo processo, è una sentenza molto lunga e densa di riferimenti alla cultura folclorica, chiamiamola così per facilità, c'è una serie di frasi, di indicazioni, anche di rituali che questa donna evidentemente ha comunicato nel corso del processo e che poi vengono riassunti alla fine prima della sua condanna a morte. E fra questi c'è una rima, sopra acqua, sopra vento, portami al noce di Benevento, che è rimasta celebre e che sembra aprire una porta verso questo luogo. Era già un luogo conosciuto perché proprio Benevento, per la rima Benevento-Malevento, in un altro processo, sempre Umbro più tardi, la rima cambia con Malevento. C'era un qualcosa di preciso che spingeva verso questo luogo, che tornerà poi a essere menzionato nei processi per stregonerie italiani durante l'età moderna. Ecco, di fatto, quando noi parliamo di Benevento, non abbiamo un noce di Benevento, un albero che fisicamente possa essere stato identificato con questo luogo del Sabba. Anche pensando che al Sabba noi oggi naturalmente non ci crediamo, quindi non c'è un luogo a Benevento nel quale effettivamente le streie hanno danzato sotto un albero. Si può tracciare in questo caso una storia dell'immaginario e in larga parte questo libro è una storia di luoghi, sì, ma anche di luoghi immaginati in rapporto alla leggenda delle streghe. Ecco, si parte da Roma. Si parte da Roma perché io credo che la cultura classica, la cultura latina abbiano lasciato un'impronta molto forte che viene recuperata in età umanistico-rinascimentale, quindi a partire dal tardo 300 in poi, soprattutto nella cultura italica, nella quale noi viviamo un forte revival della letteratura del passato latino classico. Ed è attraverso questi canali che alcuni racconti di Striges o di Malefiche sono tornati poi in circolo, diciamo così, nel discorso collettivo. E allora per questo non si può che partire da Roma, prendendo uno di questi esempi straordinari, la vicenda di Canilia e delle sue compagne, che sacrificano un fanciullo, seppellendolo fino alla testa perché poi muoia di fame e di sete, desiderando il cibo e l'acqua che gli pongono davanti, perché questo desiderio, una volta che gli saranno prelevati da queste malefiche gli organi, il midollo, gli organi interni, dovrà servire per una orribile pozione che ha proprio questa funzione, attrarre qualcuno, una pozione d'amore, diciamo così. Generalmente nella tradizione antica, in quella medievale, le pozioni d'amore, anche se ci fanno pensare a qualcosa di carino, non lo sono mai in effetti, sono dei terribili veleni che fanno impazzire di desiderio e dunque possono avere anche questa origine così orribile come nel caso di Canilia. Ecco, quindi si parte da queste donne che sul colle dell'Esquilino, dove venivano gettati i cadaveri degli schiavi prima che ci fosse una riqualificazione urbanistica dell'area che sarà ricoperta di giardini e prima di questo periodo appunto si parla invece di queste streghe che percorrono raspando il terreno alla ricerca di pezzi di morti e così via per i loro rituali osceni. Da lì si fa un salto temporale perché Roma è centrale anche per un'altra ragione, cioè il primo processo per stregoneria del quale noi abbiamo notizia, quello pure celebre contro una donna che si chiamava Finicella, che viene narrato da Bernardino da Siena nella celebre ciclo dell'anno successivo, 1427 a Siena, lui ricorda questo caso di una donna che viene indicata, additata in seguito alla sua predicazione come strega e per questo viene processata e condannata. Degli atti di questo processo nulla è rimasto, però è il primo caso che conosciamo. E allora, primo caso in che senso? Naturalmente questo va spiegato perché processi per maleficio evidentemente se ne conoscono anche prima. E' il primo in cui viene utilizzato questo termine preciso strega che Bernardino da Siena contribuirà molto a diffondere, come dicevo prima, sempre con questo legame con la cultura classica, per cui la strega non è una semplice malefica, è una malefica che in più ha un rapporto con il diavolo, le fonti di quest'epoca ancora non parlano di sabba, il termine non c'è, ad esempio nel processo di Matteuccia, nominato prima, si parla però dello stregatum, come del luogo dove queste donne vanno, è certamente una prefigurazione del motivo del sabba. E appunto Bernardino utilizza questo termine anche per finicella, quindi questa idea di stregoneria, dicevo, non solo il maleficio, ma anche questo rapporto con il diavolo, il recarsi presso dei luoghi specifici per unirsi con il diavolo, per incontrare il diavolo, e poi soprattutto alcuni motivi che ci rimandano proprio alla letteratura dell'età classica. L'infanticidio, una sorta di vampirismo antelitteram, perché queste donne, si dice, uccidono i bambini succhiando loro il sangue attraverso il naso, attraverso le orecchie, attraverso l'ombelico, e questo è un immaginario che chiaramente viene ripreso dalle età passate, ma che probabilmente avevo lasciato una traccia non solo in un discorso colto, elevato, ma anche a livello folclorico, e qui troviamo questa rispondenza fra i discorsi dei predicatori, i sermoni dei predicatori, e certamente un pubblico che accoglie questo tipo di idea, di immaginario, perché in qualche modo già lo conosce, attraverso canali differenti. E allora per molte ragioni evidentemente Roma non può che essere l'inizio di questo volo delle streghe attraverso i luoghi d'Italia. A questo seguono alcune vicende, certamente quella di Matteuccia da Todi, non può che avere un capitolo a sé stante, così come per il Noce di Benevento, che ho detto non esiste come luogo fisico, però ci si può chiedere insieme ad altri che l'hanno fatto naturalmente, perché proprio Benevento, ma anche perché il Noce è un albero che già dalla tradizione classica, dai testi di Plinio, viene legato ad alcune pratiche di magia, all'idea che ad esempio chi si trova sotto un Noce potrebbe cadere in una sorta di trance, di sonno, perché è un albero magico, ci sono antiche tradizioni dei Longobardi legate a Benevento, che non credo abbiano niente a che fare veramente con l'albero delle streghe, però sono spesso state citate anch'esse, e quindi il discorso appunto intorno a questi luoghi, così come intorno ad altri luoghi magici, soprattutto della tradizione medievale rinascimentale, i Monti Sibillini e il lago di Pilato, che non sono luoghi di stregoneria in senso stretto, cioè non la stessa di Finicella o di Matteuccia, ma che sono luoghi noti per essere stati frequentati da negromanti, da persone che pensavano di poter congiurare gli spiriti, e quindi cerco di spiegare perché proprio questi luoghi, che sono peraltro bellissimi, ma questa piccola collana serve anche a quello, insomma, a indicare dei luoghi che possono essere visitati, magari seguendo questi percorsi, perché no. Dunque, finora soprattutto Italia centrale, Italia meridionale, c'è spazio anche per la Sicilia e la Sardegna, dove questi racconti di stregoneria si intrecciano con storie di fate, e di luoghi in cui le fate sarebbero vissute. Il caso celebre è ben studiato delle cosiddette donne di fuori della tradizione siciliana, studiato da storici dell'età moderna, da antropologi, perché è un tema ricorrente nella tradizione processuale siciliana, e poi oltre questo si prosegue verso il centro nord d'Italia, la Toscana, perché in Toscana abbiamo alcuni processi molto interessanti e molto ben attestati, alcune cacce alle streghe a Lucca, ad esempio, il celebre caso di Gostanza, di San Mignato o da Libiano, del quale abbiamo eccellenti atti processuali completi, che sono stati editi alcuni anni or sono, e da questi è stato tratto anche un bel film, che è quasi un docu-film, perché segue passo passo tutti gli atti del processo, e già questo è un caso interessante, perché alla fine del Cinquecento comincia a mostrare come la caccia alle streghe in Italia abbia preso una direzione differente rispetto a quella ad oltralpe, pensiamo soprattutto a acutizzarsi del fenomeno, contemporaneamente in Germania. Ecco, in Italia abbiamo sì ancora delle condanne, però tendenzialmente, soprattutto dove entra il Sant'Uffizio, si tende a essere piuttosto scettici verso il fenomeno, e diciamo che il caso di Gostanza è, entro certi limiti, un caso con un lieto fine, come il lettore potrà leggere. Un luogo che davvero vale la pena visitare è Triora. A Triora si svolge un processo per stregoneria celebre, a volte per questo viene detto la Salem d'Italia, perché effettivamente è questo processo, che ha tuttavia un esito differente rispetto a quello di Salem, più simile al caso di Gostanza da San Miniato, nel senso che anche qui abbiamo l'ingresso del Sant'Uffizio alla fine che libera alcune delle donne che erano state imprigionate scagionandole. Purtroppo in questo caso però alcune erano morte nel frattempo. Ecco, al di là però del fatto processuale, il Triora è un posto che mantiene questa aura particolare, che viene anche localmente coltivata. Siamo in effetti dinanzi a una realtà molto piccola, altre di quelle che nomino, se oggi ci si fa, certamente non ci fanno venire in mente processi per stregoneria. Ecco, invece, Triora sì, perché si trova sperduta nell'entroterra ligure, fra le montagne, ha pochissime centinaia di abitanti, non credo più di 300, e ha coltivato una certa fascinazione per questo tema, ad esempio c'è un percorso che a piedi ci porta fino alla Cabotina, che è il luogo dove vivevano alcune di queste donne, che erano delle donne un po' marginali rispetto al resto della comunità. Bisogna anche pensare che la Triora di quegli anni era un luogo molto differente, era un centro più importante, il luogo aveva una vocazione agricola che oggi è completamente scomparsa, il bosco ha riconquistato tutto il luogo circostante e dunque è facile mantenere questo aspetto stregonesco che come ho detto viene coltivato in luogo o in loco anche molto bene e certamente merita una visita. Ci sono anche dei luoghi ai quali faccio riferimento che magari immediatamente non si ricollegano ai processi per le streghe, ho già detto dei Monti Sibillini in questo senso, però ecco uno dei capitoletti è dedicato a massa marittima e al celebre albero della fertilità, che è un albero per chi non lo conoscesse che presenta al posto dei frutti dei falli con delle donne che si trovano sotto, alcune paiono litigare fra di loro per uno di questi falli, le altre stanno a guardare apparentemente. Ecco, secondo me questa è una rappresentazione, un affresco che in qualche modo può ricordare alcuni exempla medievali che sono stati poi inglobati nel discorso antistregonico. Mi riferisco soprattutto al martello delle streghe, che è il celebre Maleus Maleficarum, scritto dall'inquisitore domenicano Henry Kramer, che parlando della minaccia, secondo lui estremamente reale, che queste donne, queste streghe, possono portare contro la fertilità, fertilità degli animali, della natura, ma in particolare quella maschile, attraverso le illusioni del demonio, possono far credere che l'apparato genitale sia scomparso. E lui racconta di come alcune streghe tengano questi falli su un albero. Ecco, è un tema che mi è capitato di studiare, secondo me c'è un rapporto fra quella rappresentazione, scoperta casualmente, come è noto, fra 1999 e 2000, senza fonti documentarie che ci dicano a che cosa potesse servire, o anche chi l'ha commissionato. Secondo me una delle possibili spiegazioni viene proprio da qui, e quindi anche questo, volendo, è un piccolo invito al viaggio, magari leggendo questa storia si potrà guardare al curioso albero e ai suoi altrettanto curiosi frutti in modo differente rispetto al passato. Ecco, quindi una dimensione del viaggio è essenziale, io credo, per apprezzare questo insieme di pagine, magari traendone delle suggestioni per dei viaggi, che ripeto, come ho detto inizialmente, in parte possono essere dei viaggi che fisicamente facciamo per recarci a vedere questi luoghi, e in altri casi sono invece dei viaggi dell'immaginario, ma sappiamo bene che le due dimensioni sono comunque sempre legate, intrecciate fra di loro. Grazie. È davvero interessante, sicuramente un invito a viaggiare per questo paese dove si può trovare di tutto, di più, compresi luoghi che possono in qualche misura essere ricollegati a fatti di stregoneria, di sub, di incontri malefici e quant'altro, quindi chi più ne ha più ne metta. Io penso che la cosa migliore sia comprare il libro, che merita, edito dal Mulino, appena pubblicato, il titolo è Andare per i luoghi della stregoneria, scritto da Marina Montesano, che abbiamo avuto il grande piacere di avere nostra gradita ospite, che io ringrazio tantissimo. Sono io a ringraziare. E a tutti voi invece ricordo che sul nostro canale YouTube potrete trovare questa videopresentazione insieme a tutte quelle realizzate fino ad oggi. Quindi ancora grazie e alla prossima. Grazie a te, alla prossima. Saluti a tutti. Saluti a tutti.